ora ce n'è c'è questa qua che è play and go wild bandolier bandolier non so cosa sia mai vista è nuova play and go fa sempre slot carine ma che non pagano quindi questa sarà di quel tipo la immagino 2000 per quindi magari pagherà qualcosa questa che cazzo massimo è 2000 per sarà un po di gioco in questa slot free spin bandito tre scatter attivano i free spin simbolo dorato argentato e poi tutte le altre catapiche va bene vediamo come funonzi bet massimo 50 non essendo estrema io partirei proprio a 10 se paga massimo 2000 per non sarà estrema come slot spero io ciao leonora buonasera anche a blen una thunder kick invece chiede che blen dai dopo vediamo pure la paieretta armata voglio vedere un po di novità slot che porta tra le novità del sito scatter servono 3 ovviamente ovvio monte e dai con gli scatter Allora 100 like si parte di acquisti bonus Spolliciate potete venire anche dal viola Lasciate un like se vi va E dal rosso potete venire sul viola Fa partire audio Siamo al giro di Boa esattamente a metà Grazie mille C'è un abbonamento da parte di chi? C'è pure il bonus O no? Si Chi è che ha cacciato l'abbonamento Che ha fatto uscire il bonus? Ah ci sono tre tipi di bonus No C'è sta scritto Devo vedere che cazzo mi dà 15 wild anziché Ah cioè il peggiore Bello c'è pure un moltiplicatore Comunque non è Cazzo mo spara 15 wild moltiplicatore per 3 Ah c'ho 15 wild nei free spin E mettili tutti insieme no? Te li stipi Guarda dove li mette Porco giuda E così che facciamo? No mancava uno qua Almeno facciamo un falare Buonasera a Debbie Ma come ti metti si wild? Mamma mia Mamma mia che schifo A bet 10 84 euro Ma guarda là 7 euro di pagamento 4 euro Ma che slot ho preso? Buonasera dinosauro No E' delusione Ah miseria Così proprio Bah Bet 10 eh 235 euro mi lavo Buonasera salvo Grazie per il like Guarda non male abbiamo visto Stiamo vedendo un po' di novità Non è ancora successo niente di particolare Ciao Lydia Buonasera Questa slot veramente fa schifo Ma veramente fa schifo Ma play in go veramente si sono ringoglioniti Fanno solo schifezze Ma perché? Boh Ma veramente Sara Cioè questa è ridicola Come va Questa slot Cioè pure che piava 50 wild Che facevano? Ci davamo in faccia uno Non lo so Sarei tentato da allevarla Oppure da provare A prendere un altro bonus Ma è mica di fare così facile Per non dare un giudizio affrettato Mettiamola così Ma i punti sono veramente ridicoli Buonasera salvatore 70 euro Affangulo di scatter Quadris di Jack 8 euro Mannaggia di scatter Non lo so eh Non lo so Mancano 19 like E facciamo acquisti bonus Dai mettici ste corna Che tieni Dici con 40 wild La musica cambiava Ma Probabile Il fatto è che devi fare le paginate Per fare Pagamenti normali Perché poi Guardate qua Un quadris 30 euro A bet 10 Che cazzo Un quadris 10 3 euro Come fa? Che succede? Sparai wild Uuuuh Ma che c'è Che è servito? Ma fa 22 euro Può pagare solo fino a 6 Fino a 6 wild bullet Quindi manco troppi Il bonus spero di più Eh che delusione però eh Eh però fino a 6 Perché giustamente il revolver 6 colpi c'ha Andra mi chiede acquisti La King Cobra E spara Se i colpi Ma quasi sentito Però li ha messi proprio Al cazzo di cane Sono fesserie proprio Buonasera a te O macchia Allora 16 like Per fare acquisti bonus Ho detto Prima slot Su cui voglio acquistare La Hot Pepper Uva vreschiette Nassù fischi strano non succede niente paga spesso ma paga veramente poco 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 è il vino guarda di nuovo c'è un altro bonus entusiasmante allora possiamo beccare 15, 25 o 40 stavano come aprivo 15, 25 e 40 dovevo andare subito a sinistra a saperlo buonasera attore bella eh sta slot mamma mia ancora siamo a zero poi scusa questi wild di avanzi che fai? ci riportiamo oppure meno ne spara all'inizio e più sul probabilità di averne 6 alla fine che ne so come sta a sparare un po' ma non paga niente ma questa slot è la... dai veramente ma come si fa? uno così buh là uno per è uno spara quanti wild 2 mo li devi mettere vai vai ancora un po' azzecca qualcosa eh azzecca il 10 le schifezze mamma mia che schifo però c'è qualcosa con questo tipo che linea ci daranno? quadris a per 5 qualcosa di buono ci abbiamo beccato quanti super wind 1710 va benissimo guardate e che cazzo paga così tanto? beh sono tante linee ah 500 euro il quadris del pistolero ma vabbè oh sto bolso è stato onesto eh ci sta mi devo ricredere mi è stato pure un colpo sicuramente mega fortunato proprio eh stiamo a vincere venga male però veramente troppo bassi i punti sarà una potabilità media non lo so la butto lì mi potrei fermare un po' a 2.5 e prendo un po' più di profit o a 2.000 vogliamo provare fino a 2.000 ma alzo il bet di poco pochi spin su attenzione pistola ero con la pistola dorata bello 25 e 50 ma che cazzo paga non metti il bet così è della plengosi di francesco si chiama wild bandolire lo scrivo così è pure più facile ma sta scritto in alto a destra anche se non si legge forse troppo bene eh domenico vediamo comunque a titolo informativo io vi passo le info della sessione se vi interessa sapere siti legali con licenza ADM su cui si potrebbe trovare questa altre slot sono alcune novità esclusive tipo che stiamo provando io vi dico mi raccomando il consiglio migliore che vi posso dare è non giocare ma se decidete di farlo se siete giocatori se avete deciso già di farlo di provare eccetera se giocate come noi dall'Italia bisogna farlo per legge su siti che hanno regolare licenza ADM quindi c'è il comparatore che è passato adesso il chat che vi dà una lista di alcuni siti appunto legali e con licenza questa la potete cliccare il link e vi si apre oppure lo trovate in descrizione del canale sempre questo stesso link ma si sta un po' a ringoglionire la slot ciao Giuseppe e anche a Massimiliano salutiamo 25 sarebbe troppo po' c'è ragazzi abbiamo pure un bonus a 25 attenzione allora il dorato stava sempre qua è normale no? se tre volte su tre stava là per forza per forza l'altro stava mo mo devi fare una cosa pistolero non devi no 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 ehi ai primi giri vai per lo soffice tranquillo e ti spari i wild tutti alla fine sei a giro ma no mo mo darà sta caro ma vale il cazzo però per due non mi piace il quadrisso di sto stronzo mo a 25 però comunque so soldi eh 940 mica cazzi lo vedete 500 euro lo stesso però prima era a bet 10 ed era per 5 c'è pure un 250 euro di non so che questo devi pagare per 5 devi pagare vai vai spara bo spara un po bello che ci metti? il 10 ma non ti vergogni però spè ci stanno i falari di del tizio argentato perché questo qua mi sa c'è sta linea eh qua c'è un scapocciamento in atto mi sa eh la faccio cazzo eh eh sì 2005 il tizio quello era quasi il simbolo massimo bello bello bellissimo che ci sta di nuovo no così non lo paga che linea deve avere? ce l'ha non lo so c'è stanno pure diversi ma non li paga non lo so se li paga infatti non li paga vaffanculo porca ma la distruggevo se lo metteva qua bello che ci metti? mettici il tizio dorato no la pistoletta però stanno i falari di wild il falari di wild si è simbolo massimo pagamento massimo o no 5 yahoo eh non so se non so se eh mettiamoli pure vabbè mettiamoli tutti vai 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 qua oddio ma c'è però il tizio c'è il quadris per tre eh eh questo è un bel colpo comunque però poteva fare il falare del simbolo massimo poteva fare porca puttana non so se la distalina ce l'ha non ce l'ha non ce l'ha che tazzetina ce l'ha non ce l'ha eh fa così qua dobbiamo metterlo sotto porca miseria hai capito razio porca miseria vabbè sto wild boom messo lì così agliù l'amore dei dius buonanera francesco arrivi proprio nel momento migliore ah madonna 12.695 io che la mia maestra di matematica non me l'ha insegnato a fare i conti diviso 25 500 per eh eh a sto punto eh 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 mannaggia sta tosse si mo devo alzare il bet devo continuare un po' cioè stasolta fa talmente schifo che mi continuerà a pagare mamma mia buonasera buonasera Giovanni eh mo che stronzatina la faccio per poco più che altro perché io credo non lo so non ho visto le informazioni su ind oh eh non lo mette subito a 100 mo compare il presidente è così allora il dorato è stato sempre qua no i 40 wild secondo me stanno sempre qua però non è male i 25 wild non è male i 25 wild non me li sparamo no non li voglio mettimeli dopo così me li metti tutti insieme oppure sparavi tutti subito che cazzo ne so vedi tu che cazzo vuoi fare io me li terrei le ultime cartucce bravo eh così eh no per due per due è brutto però ah spreco proprio spreco no non spreca fi 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 fai che cazzo vuoi allora eh ah ma ci metti simboli di merda ci metti no così no anche se la betti 50 comunque sarà un buon colpo per due qua mille euro non so cosa ha pagato lettere schifezze 100 euro qua 100 euro là vabbè ma quante linee c'è ma ce ne puoi passare 20 ma pensavo di più questo è un per 5 è sprecatissimo sprecatissimo questo per 5 vediamo quest'altro eh che cazzo hai fatto hai bucato non spara no no eh vabbè per due spara eh infatti che mo teniamo sei colpi in tre spin questo mo mi sparpaglia sicuro devo usare tutti mo no oh no 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 il falaro massimo tre wild a cazzo di cane ragazzi questa slot è una novità play and go wild bandolier è certo che porta il profitto a casa ravi se che mi occhi 15.000 euro che 16.897 euro mi occhi mannaggia che macchinetta assurda betmax è 50 manda non è a 100 non so perché ho flashato pensavo che non arrivasse a 100 questo ho fatto schifo però è una slot totalmente bella no 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 questa è una slot brutta ragazzi questa è una slot di merda che play and go è un provider che fa proprio schifo e che caccia solo slot di merda che sono belle da vede e che non pagano mai quindi per coerenza devo continuare a dirlo no qualcosina ci voglio provare ancora ma più che altro perché so di mi sembra che dia un po' di gioco no ovviamente non è che pagherà sempre a un certo punto si dovrà fermare andiamo a 15.000 che qua che vuoi piaci spicci te che spicci? oh porca porcozio sto a dico è brutta sta slot vai schifo ma play and go perché sei andato sempre macchino di merda e che fa l'altro? è un bel bonus a bett 25 questa è quella nuova? è nuova sì però pagano solo 2.000 per come 2.000? hai fatto max win? no a 25 ho preso 12.000 e quant'è? 500 per 50.000 e questa è D l'ultimo bonus la chiudo ti ringrazio ragazzi questa comunque dicevo si chiama wild bandolier è una novità play and go non penso sia esclusiva di questo sito su questo sito la porta novità sarà su un po' di siti io vi dico comunque come informazione che se come me giocate dall'Italia fatelo sul sito di corregolare licenza di em non fatelo proprio al massimo giocate in demo è una cosa migliore se proprio decide di fare su siti con regolare licenza di em potete trovare una comparazione bonus in chat adesso descrizione nel canale c'è il link che potete cliccare che è il comparatore e vi trovate appunto alcuni siti su cui si può giocare in maniera legale e sicura che hanno questa altre slot questa è una novità play and go wild bandolier non gli davo una ma l'avete visto fiducia proprio zero ma in generale verso le play and go e ovviamente è stato un colpo fortunato perché mi ha fatto pure bonus da 10 per quindi di che stiamo parlando è solo culo tutto qua succede ogni tanto a qualsiasi slot anche le più brutte che è un colpo fortunato io la chiudo perché 15.000 è proprio no magari robbi 15.000 è proprio di tutto rispetto come colpo e bisogna darsi un un limite cioè ci vuole pure decenza anche perché mo ritengo scherzando 2.000 euro me ne sono giocati vedete che fai ci provi non ci provi ci provi allora se mi continuate a spolliciare mancano 7 like facciamo acquisti bonus ma comunque lasciate sempre like iscrivetevi al canale mi raccomando io vado avanti carina questa slot la rivedremo sicuramente che fai non la riprovi eh eeeh ok sono arrivati i like adesso vado subito subito alla pragmatic che volevo vedere la hot pepper eeeh Robbi ti puoi mandare o ti mando indietro la like oppure te la ripetico calma alla fine ma mu guardiamoci